Come possiamo creare convenzioni con società, associazioni e cooperative che ci forniscano questi tipi di servizi e superiscano le carenze dei comuni? Questo è anche legato al discorso dei trasporti. Gli anziani hanno spesso bisogno di essere trasportati presso i centri sanitari o i centri riabilitativi. Questo è importante ricordarselo. C'è un piccolo problema che da poche settimane, anche da pochi mesi è nato, che è il nuovo codice degli appalti che prevedendo le convenzioni con le associazioni di volontariato, prestazioni di servizi, limitano l'utilizzo da parte dei comuni di questo strumento e quindi ci rendono la vita un pochino più difficile. Speriamo che nella revisione del codice degli appalti questa cosa venga sistemata per ritornare a rendere importante e efficiente il servizio anche agli anziani.